dobbiamo salire sulla torre il nostro amico è armato di ascia perché usare potrebbero essercene molti ma grazie al cazzo che ci potrebbe essere molti ce ne sono molti non ci avrà mica visti quel bastardo ma come ti viene in mente ok questo cosa fa? eh lo potevi dire che lo pigliavi te cosa che vuole? queste parte non si possono... ok queste sono le refasulle meno male ce l'hanno detto subito pa 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 no passi stiamo... stiamo calmi allora proviamo a disattivarlo eh si perfetto ok vediamo se mi fa fare una... la voglio incendiario grandissima esplosivo non me lo fa fare non posso fare niente ok rivediamo scusate eh se sono un po' però niente non abbiamo ancora pezzi ok dai giriamoci piano 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 lì di là di su e di giù perché lì ci sono quell'affare stai al riparo sparlo dal lato che è che sta dal lato porca troia corri no cosa fai dobbiamo eliminarle tutte se vogliamo entrare no bravo si ti voglio green toss non so stanno arrivando no ci tessa qualcuno qui dentro qua non capisco com'è non so che sei chi però non so come arrivarci ok allora quindi quindi io per forza passare di là serve esplosiva questa è incendiaria questa è incendiaria ok e adesso siamo passati in armadica perché tanto abbiamo visto che quello appena mi avvicino scappa va a aprire la porta e chiamano tutti i suoi amici cosa succede? no scusami non volevo cosa? cosa? vieni guarda che bastardi non so 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 mamma mia ha il pelo proprio dov'è qui la bomba? non so dov'è qui la bomba? non so ah ok si eh certo chi cavolo sei vai lì addosso duck ah è lì cosa mi guardi? attaccalo oh un attimo mi sta piegando qui il culo ah mi faccio molto in una bottiglia fiammiferi allora accetta perfetto questo il generatore che cosa fa? ok mi apre quello e fa uscire gli altri zombie immagino e poi i zombie non sono i zombie, sono abomini no ho sentito un rumore che non mi piace madonna che che fortuna ah ok il rumore scopiettivo è del di quel motore penso di sentire la motosega tutto bene? tutto bene? un par di polle nooo nooo oddio oddio siamo ripartiti da qua meglio che se dobbiamo eliminarle tutte se vogliamo entrare sappiamo cosa fare ne arrivano gli zombie scopiettivo scopiettivo bravo vai attaccolo come sai fai solo tu bravissimo se ti voglio non è se cazzo quando vuoi papam va per eliminarli tutti ora forse tu ci faranno a pezzi non abbiamo speranze se non eliminiamo le altre batterie cosa sta facendo? non si sta mettendo bene per noi per proprio niente attento che cavolo si è spuntato attaccalo ok ok beh te li ammazzi io gli do fuoco dico guarda ti sto rivoluzendo guarda guarda dico non so che ora ne compaiono oh qui c'è una scala non l'avevo vista proviamo a passare di qua perchè c'è la traccia in mano? perchè? aha! alteri lì il numero 2 è qui perfetto che cosa c'è? un appione? elettricità? grazie mi serve ah ok ci sono elettrici ok io amico direi di aspettarli qua di non fare nulla di avventato uh qualcosa per la pistola ok sta arrivando eh! Frizz! Frizz attacca! Frizz è dietro di te! Frizz no! Frizz c'era di! bravissimo Frizz finiti i fiammifidi ok immagino che qua è un altro punto ancora mi serve il fischio a cicchino cosa cazzo sta? no sul serio? ma male eh si mette male si ok mi ha preso ma ce la posso fare dove sei? vieni qua porca puttana via Dio ok ok meno male non ho preso te perchè in seguire me? giulia ha fatto nulla giulia ha fatto nulla? ok quindi ci manca un'altra port due porti no mi fa scampare mi fa scampare che questa cosa che quando passo io le tintinna e invece quando passo lui le frego un cazzo ok allora scendiamo ok ah qui c'è di nuovo ho caricato l'arma sarà meglio caricarla che dici? e anche questa è andata uh sto diventando tosto poi voglio ridere a giocarla a livello difficile pizza cortesemente mi seguo toh e poi fanno oh guarda chi c'è un mio amico proprio un gradino alla volta ti hanno fatto bene texture di di che simpatica maschera fritz mi dà una mano per cortesia non voglio spiegare munizioni quando un uomo con l'ascia incontro l'uomo con l'accetta l'uomo con l'accetta è un uomo morto si se l'uomo con l'ascia non fosse un coglione si aspetta che abbia finito le scale eh che devi permesso ma dai è un metro sta andando a due come fai fritz fritz sei il patch te lo giuro sei proprio il patch ok ok c'è qualcun altro qua con noi una bottiglia non ci serve a niente che no questo non me la rischio eh sto rotta oh questa la posso quazzare non ci serve non ci serve ci serve